Tola, almeno di Branova Parto l'incenso che vi facciamo la mezza Ma le cazze l'incenso Poi non l'ho avuto pe best No, no, la scendiamo Ora ce l'ho Oh, no, la scendiamo Oh, no, la scendiamo No, Chris, abbiamo detto È morto, Chris Vabbè, va bene È ancora vivo No, no, la scendiamo Eh, sì, è molto vero Eh, niente, paro Chris Oh, oh, è passato tutto il posto Sursale No, è passato tutto il posto È passato tutto il posto È passato tutto il posto No, no, sto attaccando ancora un'altra cosa Ma è stato attaccato un'altra cosa St'attaccando 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 Penso che il prossimo sono due No, ma Sì, più che altro sta attaccando Prontata la telecamera Dio bella Che figata oh si adesso mi sa che poi ho fatto doze così mi sembrava doze che ha finito ad attacca no no mi sa che mi si attacca quando ha fatto doze adesso io me la voglio il premio sarà riportarla in vita ti accompagna e proviamo amuri e perdiamo un po' di incenso vicino a lui così facciamo un'altra quest c'ho l'incenso io chi è che vuole morire? non faccio io le miei tarot moriremo insieme facciamo come cazzo io? accendi me l'ho messo di sopra accendi me l'ho messo vabbè lo sono cosa usano? ditemi quando che usi tarot albeda 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 ma sono ancora nel cambio c'è l'ho io se vuoi te lo porto cioè te lo do dimmi se dai cosa abbiamo qua? eh sì no in realtà stavo sopra le scale con il microfono cosa fanno? ok ma entriamo tutti adesso fai cheese cheese tanto muo subito muoio aspettavo ok dai andiamo andiamo alla stanza vieni qua vieni qua entra facciamo così io faccio il ferroco e te lo passo facciamo facciamo tutti mettiamo il ferroletto russo esatto mettiamoci qua chiudiamoci prendete la fotocamera così si arriva facciamo una foto ok si e poi che con cazzo vuoi non puoi moriamo fai accendino se vuoi ah no c'è dai intanto abbiamo l'ho fatto è uscito the wheel of fortune ehi dove faccio io eh oddio era uscito che faccio io l'attacco che faccio l'attacco guglione non attaccare the tower che cazzo the tower eh niente è una carta di merda la ragazza è una carta the devil morto? morto? morto ehi l'ha uscito ti ammazzano no sta fatta la perizia ah no ah no fai tra poco morto eh io c'ho trovato a poco ma è il primo tra passato ma sta ragazzi che sarà più a morire per me io ho scommetto il buco del culo per me chiaro punto il culo ragazzi è il porto numero bella e vedete che ho trovato l'obiettivo e va beccato la fantasma sentita e lo abismo in radio bisogna che ragazzi direi dire ok riappare è a vera cosa in camera però io c'è ma è uscito di te eh sanità tenetevi blocco, volo bene ah ma dov'afinire riposo will of fortune se bruciare ti ha dato sanità riposo in un uomo vabbè tocca a te eh ragazzi addio the wheel of fortune ah vabbè tutta sanità si sanità the wheel of fortune è finito il mazzo ok no povero p oh però che ho avuto un po' l'am si è vero ovviamente morisci vabbè quindi che cazzo facciamo e niente adesso ho la pazienza andiamo a vedere il sospitto il soffitto ehm non ci sarei roncato ma volevo vedere il soffitto ma sappiamo il libro ma è passato raga raga ma l'abbiamo portato il libro ma non l'avete portato ma non l'avete portato ecco perchè lo trovavo dalle mercanti ma ce l'aveva l'altro allora il progettare il progettare la tappa è passato E' uscita sempre rosso, mi sa. Stavo a zero. E' uno sfigato del cazzo, bro. Rega, ma l'altro link, c'è stato tanto quello di Rocco? Oh, 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 eh, 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 eh. Eh, orco! Eh, non muove. Non lo fai più. non si può più sdoppiare ma non abbiamo fatto la sfida dell'incenso ma che cazzo allora scambio stanza mi sa no però ci stanno le cose ma non è stato smacchini vabbè allora ripassiamo l'incenso ragazzo come non si vede lì prendo il microfono direzionale che non so no io quello mi cazzo si usa è un po' strano allora non lo tocchia ma posso portare il nuovo modo con il mio condito con l'arbitro vero e dove sta fatta cosa resta casa quello grosso non mi ricordo su quello che ti ho messo il nome ma andiamo a vedere se ha scritto vivamo lì beh è sempre utile vabbè è sempre utile eh no è direzionale perchè se vedi c'è tipo le assi in qui vanno in una direzione vabbè doveva farcena questo vogliono e scrive la spirit amostra non è scrive non fare cazzare c'è la pecorina ragazzi ma l'incenso ce l'ho io dobbiamo usare vicino a lui tipo l'incenso o qualcosa che c'è eh si ma lo siamo certo eh ma non l'ha preso no 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 ha ruttato no eh eh ho fatto fantasma ma è ricchione eh 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 mi sa eh 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 che vuol zoomare pure ma non mi ricordo come fa altarte qua ah si ah ah windows r a prova se no se tira un calcio al computer per per la città è se sei sicuro se sei sicuro se sei sicuro quindi che cazzo facciamo ah vabbè che cosa può essere allora baci li dobbiamo vedere come attacca così ci vogliamo no no togliamo alcune pro raga andiamo a contare di modo per terzo giramento e facciamo qualcuno che fa al cogliere la spiritbox ah io non so parlargli pagati un uomo può basta di satin andavo bad la base prodotti sentiamo tutti il perdete a mente la roma si dovrebbe chi mowanie ci ringrazio si eccezza Dai entriamo Dai entriamo No Vaffanculo ragazzi Vai 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 entriamo Io sono pro Vai a cazzo duro Adizia appena è crocivisto Pinocchio in merda Ah ma qua c'è una birra eh lui beve tanto eh No ragazzi c'è una turismo con il turismo Tranquillo Raga a me mi ha fatto rispon Oddio a me mi ha fatto risponso Eh vabbè dot grazie al cazzo Che cazzo Temperature ragazzi non è ancora E i dot c'è per la speedbox Ma tipo fatto su response Tipo un sacco di lucette rosse Ma che sembra No no devi sentire devi sentire che hai fatto Ragazzi ma sto vantando un coglione Ma un frattore Fatto la foto ciccione di merda Gai di merda Quanti anni hai? Come cazzo ti chiami? Dai ti lasciamo da solo Dove sei nato? Come sei morto? Gli occhio del cazzo rispondemi Quanti anni hai? Sì Quanti anni hai? Kurt Attacca 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 è morto, da chi è uscita? ah non è vero, non è vero è morto quando arriva il piramino preso e mi raccomando non è vero non è vero è morto, no? sei un gay del cazzo mi ha più scegliato davanti alla macchina adesso ci fai vedere ah non è vero non è vero, non è vero ma almeno ne ho parlato della specie no il libro ma siccome ci devi ritrovare no no adesso ci vede grazie ma la temperatura è congiamento abbiamo provato l'ho controllata a zero quel tanto otteniamo temperatura e direi quelli con la sanità più alta va quindi mio amore ti tocca ma non so non so non so c'era del brado congiamento della negativo positivo si dai togliamo lo togliamo la fatta allora cosa è somma giurei ma giurei non può essere mettete te lo dici ho sempre ancora fatto io bella oh dai muoviamoci mi disposto per te li andiamo colt'inno la crescita è morto da un'ora muoviamo e' pazienza guarda guarda sta lanciando le tazzine perché si può paro crisi sta sta in pena sta in agonia e metto un'altra teglia che è che detto mettiamo un'altra teglia ma te le cavo no con ti vediamo se scrivi un libro eh ma se vuoi che no no grazie quello che è la pioggia dai andiamo tutti non falla ai suoi no 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 sto cazzo vai vai andiamo vai andiamo dai andiamo noi due dove c'è di merda no a lei non chiede, non farò p***a venga a te non farò p***a la so che mi fai chiedere, la so che mi fai chiedere no no non la ti chiedere, non mi fai chiedere ah io posso restare così, mi fai chiedere, basta vieni, vieni, vieni dai entra e raga, gli zippe, dove c***o stanno? vieni, vieni vabbè chissà, arrivo arrivo i zippe c***o sono dai c***o zippe zippe c***o sono i zippe c***o sono i zippe, vabbè vieni, vieni, vieni vieni, vieni, vieni vieni, vieni vieni, vieni, vieni o io ci stavo verranno e per fare se ognunierai fatta sì, sì, sppo io non sbiu bravo sì, sì, sì ma non li fai aveva avuto ad altri avete visto? ших ah, che fai la roba? nooo Pippo! ha pippato troppo, è morto di avvertose nooo, è morto di avvertose nooo, è morto di avvertose dai dai, io ando dai no, Pippo, dagli il... il premio a Chris io direi più ad armare per il duro mi metterò a guardare no, no, io non voglio morire somma, io vado di Raichu ragazzi, ti sei la città con con lì come è un thailandese? si è un thailandese, è il cazzo, è pronto, pronto, vai 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 appena visto qualcuno che pippa e tende subito a puttellì la roba tanto gli è sicuro, sicuro ragazzi che c'è da... no, non ho fatto tempo ragazzi, cosa mi ha entrato, mi ha divorato si si, sì, io non ho visto per un progetto io che era il raggio ma son cogliona lo metto la rio ho fatto un seguito da casa più grande che raga gli direi dai fammi una scuola si basso scuola basso fammi matti ragazzi ragazzi aspettate aspettare io dobbiamo capire che cazzo sta quelle lettore mf di merda scusa toglilo io l'ho tolto hanno aggiunto un cazzo e se c'è la linea